Bentornati su MyFootballGersey. Oggi vi mostro questa maglia spettacolare, probabilmente anzi, sicuramente la preferita, la mia preferita di questa stagione. Questa è la terza maglia del Napoli in edizione FAN. Alla prossima! La maglia è bellissima, con questo tema che mi ricorda un tatuaggio a Mahori, veramente elegantissimo. Il costo, lo vedete qui sopra, tra l'altro, oltre a essere molto basso, vi ricordo che include anche le spese di spedizione. Se volete saperne di più, andare a vedere nel dettaglio questa maglia, trovate tutti i riferimenti qua sotto, in descrizione. Andate a vedere perché trovate anche un link per ottenere un coupon da 5 dollari, quindi la maglia diventa ancora più vantaggiosa. Ora vi lascio alla parte finale. Se però, tutti i giorni, volete vedere recensioni come questa, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso a 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!